ecco video bella l'ultima notte con questa forze fiesta sui 4000 in seconda iniziamo bene si dica robetta 75 cavalli quei buoni dio povero altro che posso fumarmi l'ultima cica qui dentro se è ok io no scendi che roba se è macchinina mi fumo l'ultima cica io amo questa macchina adesso proviamo a bere a pare dio cane dopo un po di prosecco vediamo se ce la faccio attenzione ragazzi attenzione che qua last night si ma non la nostra last night io caro no attenzione che qua attenzione che andiamo attenzione 3 2 1 ce l'ho fatto assolutamente un po di prodi o cane grande mega derapata porco dio che matto è sabato sera offre da bere anche venerdì anche domenica tutti i giorni bella adesso andiamo a casa se andiamo a casa che domani mattina alle 6 siamo tutti in piedi pronti gli operativi per andare al lavoro stracazzo io aspetto solo le 5 tranne quella dietro vabbè ogni tanto la vita è ingiusta con certe persone va bene così va bene così bravi marmocchi bravi marmocchi bravi marmocchi e raffiamo in rotonda sguono dio caccia si è fermata no no vabbè dai c'è piccoli come niente che succede ai grandi piloti è una cosa più che normale non si lascia in barattina infatti sono anche in riserva wow potenza è l'anno di riserva va bene ragazzi una buonanotte da Manuel Alex Aurora dal cerchio di comando Fox Fiesta MK4 del 96 22 anni più vecchia di media un po' è vecchia come me oggi di Ocane e ci vediamo di Ocane perché ha avuto il telefono aia 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 di Ocane perché no dove cazzo è il telefono no quindi il telefono comunque buonanotte da Manuel Alex Aurora ciao sei bravi